Da oggi primo settembre nessuno italiano pagherà più il super ticket, è una notizia importante, ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo di fronte ad una sconfitta per lo Stato e una violazione della nostra Costituzione e così da oggi non ci sarà più questa tassa odiosa sulla salute.